Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlogmas nulla. Io ho messo una piantina dietro sperando di fare l'atmosfera carina, ma mettendomi così la copro, vabbè, però è molto carina. Cioè, l'ho presa apposta con le lucine per mettervela dietro il video, aspettando che montino l'albero di Natale per poi spostarmi lì a fare i vlogmas, giustamente. Più della testa. Non so se avete notato, ma già da questo video si vede che sono un pochino più a mio agio rispetto al primo in cui ero un pochino più impacciata, perché ovviamente ero da tanto che non mi registravo in questo modo. E nulla, parlando di questa cosa, adesso diventerò di nuovo impacciata, perché mi verrà un po' di paura di non riuscire a fare i video bene come una volta. Non lo so, sento un po' la pressione. Ovviamente scherzo. Forse no. Comunque. Oggi voglio registrare uno dei video più richiesti in assoluto, ovvero quello sui miei tatuaggi. E dall'ultimo update fatto qualche anno fa, secondo me, qua su YouTube, si saranno circa moltiplicati questi tatuaggi. E per adesso però, calma, adesso l'ultimo che ho fatto l'ho fatto due mesetti fa. Vorrei non farne più per un po', perché altrimenti va a finire che mi ricopro tutta e preferisco andare con calma. Ecco, tanti anni per tatuarmi, non voglio correre troppo. Ecco, però quelli che ho li amo, tutti sono stati fatti in momenti molto speciali, hanno tutti un bellissimo significato, quindi non mi tento di nessuno e ognuno mi ricorda proprio bei momenti o in generale esperienze di vita, diciamo. Allora, vado random. C'è questo qua che ho fatto per Chloe, dove appunto c'è scritto Chloe. Non vi mostro quelli vecchi perché già li conoscete a memoria, quindi solamente questi più nuovi. Chloe è il mio cane, che in realtà qua su YouTube avete visto poco, perché quando l'ho presa ho smesso di fare i video e così abitudualmente. Difficile l'italiano comunque. Però ecco, Chloe è il mio cane, se mi seguite sugli altri social la conoscete benissimo. È una cucciolina, alla fine ancora si dico, al del retrievere. Per me questo è un punto molto importante perché è uno dei tatuaggi che vedo maggiormente, o meglio uno anche di quelli che si vede di più e quindi volevo che fosse qualcosa di molto speciale e quindi lei merita assolutamente questo posto così tanto speciale. È scritto così, in corsivo. E tutti quelli che ho sulle braccia, che poi li farò vedere in foto perché non posso denudarmi, però sono stati fatti tutti dallo stesso tatuatore, molto molto bravo, come vedete. Super sottile la linea, mi piace tantissimo. Qua ho una cicatrice, vabbè, e qua mi appunto qualcosa. Dopodiché, il più recente in assoluto, che è quello molto tosto perché secondo me è un punto bello importante, è questo qua, c'è scritto family, quindi anche in questo caso ha un posto d'onore ma è per la mia famiglia, quindi non potevano essere in un punto così tanto speciale. Cioè se non famiglia non so cosa potevo andare a scrivermi qua di altrettanto importante, quindi ci tengo tanto e anche il punto in cui l'ho fatto per me vuol dire molto perché è proprio qui. Cioè per me la famiglia è, non so come dire, proprio una roccia, un colosso, un qualcosa che mi sta così tanto vicino e che è così tanto importante che ci tenevo che fosse proprio in un punto anche visibile per far capire, non dico per far capire agli altri perché tutti i tatuaggi che ho li ho fatti per me, però voglio che le persone sappino che per me è davvero importante la famiglia e mi piace parlare della mia famiglia e mi piace dire il bellissimo rapporto che ho con loro e quindi vabbè la mia famiglia la conoscete benissimo, mamma, papà, amare e per me non c'è cosa più bella al mondo e è la cosa più preziosa che ho di conseguenza. Mi sentivo di averle sulla mia pelle per sempre. Poi una scritta qua che vabbè non vedete ma c'è scritto rimani sempre speciale ed è la fine di una lettera che mi aveva scritto mia nonna per il mio diciassettesimo compleanno e c'era scritto per una diciassettenne speciale e rimani sempre speciale. E con mia nonna ho sempre avuto un bellissimo rapporto, però lei non è una persona troppo dolce e quindi quando mi ha scritto questa cosa è proprio stato quel, non so, quel fuoco dentro che mi ha fatto ancora di più credere in me perché quando ti dice una cosa del genere qualcuno che solitamente non dice parole così a vanvera vale comunque il doppio se non il triplo eccetera quindi quando me l'ha scritto lei mi ha dato proprio quell'incipit la cosa in più di dire caspita devo credere in me e quindi me lo sono scritta qua c'è qua un fulmine che per me in realtà rappresenta tante cose e me lo sono fatto in un periodo in cui stavano arrivando tante cose e non sapevo cosa scegliervi affrontare e cosa no cosa sposare e cosa no e quindi per me è sempre stato un cogli l'attimo perché non puoi sapere quando ti torneranno determinate opportunità e cogli quelle che realmente sai che non torneranno mai indietro quindi il fulmine per me è sempre anche un nel momento più triste, più down arriva sempre un qualcosa che poi ti fa ripartire ti fa essere felice nuovamente quindi il fulmine rappresenta un po' l'imprevedibile sperando sia sempre in positivo poi qua ho scritto amore per me l'amore è tutto cioè alla base di qualsiasi cosa l'amore per un possibile fidanzato eccetera per un'amicizia, per il mio lavoro, per la mia famiglia per tantissime altre cose per me se non fai qualcosa con amore meglio non farlo perché deve essere sempre la base di tutto quello che fai e tutto quello che fai devi farlo perché ti piace e qui mi riallaccia un mio altro tatuaggio qua sulla schiena che forse si vede vediamo sì c'è scritto solo se ti rende felice vale la stessa regola poi ho una libellula fatta con la mia migliore amica lei è stata una persona molto importante per me da quando l'ho conosciuta quindi da circa quattro anni poiché è stata la mia prima amica qua a Milano lei appunto è di Milano quindi quando mi sono trasferita dal Trentino era proprio quella amica quella persona che mi ha aiutato un pochino ad ambientarmi è la prima che non mi ha giudicata per nulla proprio non le interessava niente di quello che io facessi sui social eccetera e conoscere persone che ti vogliono davvero per quello che sei quando fai questo tipo di lavoro è un dono prezioso le voglio tanto bene dopodiché ho un'ala sull'altro piede che non so se vi ho mai fatto vedere qua su YouTube però ve lo dico e me l'ho tatuata a Roma in un bel weekend è stata una pazzia fatta così diciamo che tra tutti forse è quello a cui ho pensato meno ma non mi pento assolutamente perché è stato proprio fatto in un bel periodo in cui ero felice e mi ricorda tanti bei momenti quindi anche se non è stato troppo pensato e non ha un vero significato così tanto profondo mi ricorda un bel periodo vi lascio qua magari le immagini degli altri tatuaggi se volete sapere i significati trovate appunto i video in cui rischio che mi sembra siano altri due qua su YouTube quindi bando alle cianci io concluderei qua il video devo smetterla di guardare sempre il telefono invece che l'obiettivo diciamo io vi saluto il video è terminato fatemi magari sapere fatemi sapere anche i vostri tatuaggi magari ditemi cosa vi siete tatuati e poi spiegate il perché perché penso sia una cosa molto carina anche condividerli sono molto curiosa scrivetemi qua sotto nei commenti vi mando un bacino e ci vediamo dopodomani con un nuovo vlog ma se in cui proverò a guardare giuro prometto grazie a tutti grazie a tutti